buongiorno e benvenuti a questo nuovo video intanto vi ringrazio per le tante visualizzazioni che hanno questi video e che nonostante la mia faccia non proprio bellissima diciamo riescono a raggiungere una media di 2.500 visualizzazioni anche se non ci sono molti commenti però in effetti c'è tanto seguito e penso che li appreziate abbastanza oggi volevo parlarvi di spread che è un argomento un attimino difficile perché volevo parlarvi di spread perché recentemente in una recente intervista la premier meloni ci ha detto che sotto il suo governo lo spread è addirittura diminuito ora cosa incide lo spread sulle nostre vite e soprattutto che cosa è lo spread ma sulle nostre vite incide ben poco perché praticamente non incide assolutamente nulla quando vuoi fare la spesa quotidiana quando vuoi comprare il pane nel panificio o la carne in macelleria assolutamente zero ma che cos'è lo spread se dovessimo dare una definizione tecnica difficilissima e la differenza tra i bund tedeschi e i bot italiani non abbiamo capito assolutamente nulla di che cosa sia e allora mi sono fatto spiegare in maniera molto più blanda molto più coerente e alla portata di tutti cos'è effettivamente lo spread lo spread è la differenza tra due economie cosa vuol dire si vende ad esempio come riferimento l'economia della germania che in genere si ritiene sia quella più solida nell'ambito europeo e gli si dà un valore di riferimento che per semplicità di calcolo diremo che è 100 ad esempio l'economia tedesca vale 100 quanto vale l'economia italiana rispetto all'economia tedesca mettiamo che vale 30 per facilità di calcolo lo sto facendo molto molto povera molto semplice tra 100 e 30 70 è la differenza quello è il cosiddetto spread quello che si chiama tecnicamente spread ci siamo cosa succede se l'economia italiana se l'economia tedesca va meglio quel valore di 100 diventa 110 se la tua economia italiana rimane 30 il valore di spread non è più 70 ma è diventato 80 quindi la forbice spread si è allargata se invece come in questa congiuntura economica l'economia tedesca va peggio quel valore 110 100 non vale più ad esempio è diventato un valore di 90 se la tua economia è rimasta sempre ferma a 30 il valore di spread è diventato 60 ma non è sceso perché la tua economia è andata meglio perché sempre 30 è rimasta è sceso perché sono peggiorate le condizioni degli altri quindi lo capite benissimo come col fatto dello spread ci prendono per i fondelli magari occultando tutte quelle promesse elettorali che c'erano fatto ad esempio di togliere le accise dalla benzina che erano state parzialmente tolte dal governo draghi ma che poi sono state rimesse dal governo meloni che aveva detto che le avrebbe tolte quindi lo capite è benissimo di che cosa stiamo parlando e di come ci prendono in giro come ci voglio ci prendono in giro anche con le commissioni bancarie che dovevano essere tolte sui pagamenti con carta di credito che tutti noi paghiamo ogni volta che paghiamo con la carta di credito paghiamo una commissione sì ma io non la pago subito la commissione perché 20 euro di benzina faccio e 20 euro di benzina poi mi accreditano sul coso perché il canone anno il canone anno che tu vai a pagare sulla carta di credito non è una commissione bancaria sulle operazioni che tu fai quindi lo capite benissimo ci prendono assolutamente in giro ma se torniamo se andiamo a mascheruccia vediamo che la situazione non è tanto migliore io ho letto il programma di un candidato sindaco che attualmente è in lizza per la competizione elettorale e mi scrive a uno dei primi punti riqualificazione del parco manenti lo abbiamo fatto ora io accetto tutto che accetto che mi si scrivono nei programmi elettorali lo dico sinceramente le più grandi balle di questo mondo le potete scrivere perché in effetti poi su che cosa si basano i programmi elettorali su delle promesse su delle cose utopiche ma soprattutto si basano su tante balle che dobbiamo raccontare che si devono raccontare agli elettori per ottenerne il consenso ma questa è la più grande di tutti ma di che cosa stiamo parlando riqualificazione del parco manenti dopo che è stato solamente aperto e lasciato all'incuria di tutti che cosa si è riqualificato sono presi soldi si è fatto sì il campetto e poi tutti quei soldi che sono stati presi nella riqualificazione estetica del parco manenti sono stati già persi perché il parco manenti si trova in situazione peggiore di quella che era prima della riqualificazione quindi di che cosa stiamo parlando cari amici vi ringrazio spero che se la cosa sia più chiara sullo spread che le vostre idee siano più chiare sulle balle che ci raccontano buon voto a tutti e buon divertimento buona giornata grazie